Consigliere Fiusco, non è un modo corretto e rispettoso non presentarsi in consiglio. Si doveva votare la mozione, voi potevate votare contro, ma è una mancanza di rischio. Voi sfuggite rispetto alla città, scappate. Ma io non sfugo e non sfuggite. E perché non ti sei presentato in consiglio? Perché la mozione l'avete presentata. E quindi il consiglio è vostro, con il 6GP, assenteisti, politica di assenteisti, 2.000 euro al mese. Beh no, proprio a me. No, 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 è per tutti. Non è per me o per te. Però ci si presenta in consiglio. Ci si presenta in consiglio. Ma voi avete presentato voi la mozione. E' una maggioranza assente, tutti assenti. Una maggioranza assente, ma stiamo scherzando. E prendi voti e ti siedi. Guardate. Questa è Taranto. Questa è Taranto. Sappiatelo cittadini. Lomuzio. Scappa Lomuzio. Guardate, guardate. Lomuzio. Prendi, prendi. Ah, che bello. Come mai non ti sei presentato? Una mozione di sfiducia? Esporre la tua posizione. E perché non è la mia posizione? Voi dovevate parlare mica io. E si diserte il consiglio comunale? Io avevo da fare. Per la seconda, hai da fare? Sì, sì. Avevo da fare. Avevo da fare. Aveva da fare. Però era presente in consiglio comunale. E ti sarei venuto. Ed eri in consiglio. E che se facevi? Prendi. Noi ero assente. Ero assente. Abbiamo visto. Guardate, aveva da fare. Un consigliere comunale dice che ha da fare e non poteva venire in consiglio comunale. Però, però il consigliere comunale non stava, stava tranquillamente nei paraggi, nelle vicinanze. Aveva da fare. Stava però nelle vicinanze. Aveva da fare.